Non credo che mi avete frainteso. Ci sono due soggetti pericolosi che celebrano in questo momento, un anniversario. Ci sono molte ragioni per porre fine alla loro vita, dopo il fermo di polizia. Prendo su di esso subito. Ciao a tutti, io sono Coimbagio. Sono venuto a fermare questa infamia. Non saranno anche dopo la pulizia delle ossa. State molto attenti con me.